Sono davvero fiero di questo gruppo, sono rimasti uniti, hanno lottato, i tifosi sono straordinari, anzi voglio ringraziarli per essere venuti così numerosi a sostenerci come sempre, oggi si festeggia. Nelle parole di coach Brasi c'è l'essenza della vittoria su Brindisi, con un quarto da scrivere negli annali e un pubblico da far esplodere Masnago. È una grande rimonta, siamo una squadra che non molla mai, veramente dei compagni di squadra fantastici, pubblico incredibile, andiamo avanti così, noi facciamo il nostro lavoro e diamo il meglio in campo.